che è capace di generare un altro bene, cioè contribuisce alla creazione di un altro bene. A fecondità semplice lo utilizziamo una sola volta, a fecondità ripetuta lo utilizziamo più forte, ok? Gli immobili, i macchinari, gli impianti, i mobili, le attrezzature, i mobili e le macchine d'ufficio sono a fecondità ripetuta. Le materie prime, la mano d'opera ad esempio sono... E loro? Loro non si fermeranno mai! Pressure, pushing down on me, pressing down on you, no man or score. I'm the pressure, that brings the beer, they dance, it's a family dispute, who's people on street, ba-ba-be, ba-ba-be, they tell you, they tell you, that's okay. There's a better road, watch this road, it's a battle, watch this summer, friends, really, let me out! Move tomorrow, get me higher, pressure on people, people on street. Yeah! Oh Oh One two three take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you So fine that I really wanna make you Come on Come on Ciao ma Si si tutto bene che? Senti ti devo dire che No non ho più voglia di partire Oramai abbiamo visitato dieci città in due anni Questo è il tuo sogno Il mio sogno non è quello di viaggiare ma è quello di cantare E se a te non va bene allora vattene da sola Sì 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 Sì